ciao ecco che vi parlo di seven wonders seven wonders è un gioco un bel gioco un po complesso da due a sette giocatori o meglio da tre a sette perché in due si adattano un pochino le regole per renderlo appunto un gioco da due persone bello da giocare anche in gruppo grande il gioco si compone di varie plance che rappresentano ciascuna una delle sette meraviglie del mondo antico le plance sono bifacciali quindi già è una piccola espansione perché si può utilizzare una faccia con determinati effetti o una faccia che ne avrà degli altri ciascun giocatore è proprietario di una delle sette meraviglie del mondo antico cerca di svilupparla di farla crescere come tramite l'utilizzo delle carte ogni era è carterizzata da un mazzo di carte prima era seconda era terza era durante la partita uno sceglie quale carta mettere in gioco ne paga il suo eventuale costo e gode dei suoi effetti ciascuna meraviglia va sviluppata sotto tanti punti di vista c'è l'aspetto commerciale c'è l'artigianato c'è la costruzione di infrastrutture come i teatri università ci sono quindi tutti i vari aspetti non dimenticando l'aspetto produttivo perché nella seconda e terza era per costruire delle cose che saranno più importanti più grandi tipo le farmacie tipo l'università sarà necessario una quantità maggiore di materie prime e semi lavorati non solo le posso produrre ma le posso anche scambiare con i miei vicini che saranno alla mia sinistra e la mia destra inoltre il gioco mi fa interagire alla fine di ogni era facendo battaglia con i miei vicini mi devo sempre sviluppare anche da un punto di vista di militare fortezza situazioni di attacco situazioni di difesa in modo tale che a fine era ogni ciascuna ogni fine era possa guadagnare dei punti positivi punti battaglia positivi e evitarmi i meno che alla fine mi conteranno come punteggio negativo nel gioco ci sono anche dei soldi c'è del danaro che serve appunto a volte per acquistare a volte per scambiare le merci ma comunque fa anche il punteggio alla fine quindi si riesco ad accumularne ogni tre monete alla fine mi fa un punto come funziona il gioco appunto in questa maniera ci sono il mazzo di carte ci si passa le carte ognuno vede tutto quello che ha in mano sceglie e passa sceglie e passa sceglie e passa fino a quando finisce la prima era battaglia seconda era battaglia terza era alla fine della terza era sono finite le carte ciascuno guarda la propria situazione di sviluppo e si contano i punti sia positivi che negativi chi nella somma algebrica ne ha provati di più avrà vinto la partita questa era 7 wonders e ciao grazie